Nasce a Rimini il Consiglio Comunale dei Giovani, Scuole e Associazioni Giovanili, insieme per pensare la politica del territorio. Si tratta di uno spazio di partecipazione inedito, fino ad oggi assente nel panorama istituzionale riminese. Il Consiglio, coordinato dall'Associazione di Promozione Sociale Pensiero Politico, punta all'immigrazione come primo tema da sviluppare e da approfondire. Il tema dell'immigrazione è un tema molto attuale, un tema molto pressante, è difficile svegliarsi la mattina senza pensare a questa tematica che ci colpisce direttamente. I giovani sono particolarmente colpiti ed empatici rispetto a loro coetane che vivevano situazioni molto difficili. E quindi è un tema che va sviscerato, un tema complesso, su cui bisogna formarsi prima di apportare la propria opinione, quindi non essere superficiali ma andare a fondo dalla questione per poi promuovere nuovi modelli di integrazione. Non dobbiamo vederlo come un tema che subiamo ma dobbiamo iniziare a avere anche gli strumenti per affrontarlo. Gli strumenti che Pensiero Politico ha messo in campo sono innanzitutto la formazione, l'approfondimento e poi da lì partire per trovare delle soluzioni. E quando un fenomeno è complesso chiaramente non avranno delle soluzioni facili. Lo scopo principale è quello di rivicinare i nostri giovani alle istituzioni, nella gora pubblica, nei posti dove si dibattono le scelte più importanti della nostra società e della nostra città. Quindi io li accolgo veramente con piacere e con orgoglio.